Giovanni Caselli, tecnico del Paganico, al termine della partita dove la sua formazione è uscita sconfitta 2-0 dal Fonte Blanda. Inizialmente sembravi un po' più predisposto alla sconfitta, tra virgolette, perché hai visto i tuoi ragazzi che inizialmente erano un po' sorpresi dall'avemenza del Fonte Blanda, invece avete fatto una dischietta partita. No, sorpresi dall'avemenza del Fonte Blanda no. No, sorpresi perché i primi minuti erano un po' sempre... Per loro è la prima esperienza, sono tutti ragazzini del 2005, quindi giocano parecchio sotto età e quindi è normale che sentano la pressione e la tensione di un evento come questo. Anche per me è la prima volta e devo dire che è stata un'emozione non indifferente. Siciliano di dove? Siciliano di Caltanissetta. Caltanissetta. Ci ho fatto una grossa riunione di pucilata a Caltanissetta, 7-8 anni fa. Comunque le aspirazioni della tua squadra a livello per questo passa l'acqua? Per noi la partecipazione è già un traguardo non indifferente. È un regalo per questi ragazzini che hanno fatto tutto il campionato durante l'anno sotto età e hanno tirato fuori il meglio. E più di questo non gli si può chiedere, sono stati meravigliosi. Te ho visto spesso e volentieri, ogni tanto disperavi quando mancavano un gol, tu ragazzi, però non facevi in tempo a disperarti e poi bravi, bravi ragazzi. Assolutamente, è il mio modo di essere. Il calcio è questo, si sbaglia e si fanno tante belle cose. Abbiamo creato parecchio, però purtroppo lì quando c'è da finalizzare purtroppo... In realtà è più o meno il gol della bandiera, perché chi si ragazza? Stanno io, i ragazzi, perché la soddisfazione doveva essere loro. Purtroppo non è arrivato, speriamo che arrivi con le prossime partite. Io ti ringrazio, dando l'appuntamento alla prossima partita che la tua squadra scenderà qui alla 48esima Coppa Bruno Passaracqua. È stato un vero piacere, grazie mille. Grazie a te, ciao, ciao. Grazie a te, ciao.